Il sindaco metropolitano Giuliano Pisapia ha partecipato all'inaugurazione allo spazio Oberdan della mostra fotografica Robert Capa in Italia, che raccoglie 78 scatti del più grande fotoreporter di guerra del XX secolo sullo sbarco degli alleati in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Presenti anche la curatrice della mostra Beatrix Lengel e la consigliera delegata della città metropolitana di Milano Ines Patrizia Quartieri, che si è detta orgogliosa di questo primo evento della nuova istituzione. Sono molto contenta che la nuova città metropolitana inizi il suo percorso culturale attraverso una mostra di così alto spessore e così alto significato. Noi ci auguriamo come nuova città metropolitana che qui allo spazio Oberdan, così come anche in altri spazi della neocittà metropolitana, sempre più si dia importanza a una cultura che affronti anche i temi civili, i temi che danno significato anche al vivere quotidiano e ci fanno dire, ad esempio, quanto male porta le guerre a tutti e ci uniscono stando vicini a chi le guerre appunto le ha subite. Il lavoro di Kappa è custodito nell'International Center of Photography a New York, più di 70.000 negativi ci sono là e il suo fratello e il biografo Richard Villan e Cornel Kappa hanno scelto 900 fotografie e tra 900 fotografie ci sono 78 scattate in Italia. Secondo lei che cosa voleva ritrarre Kappa? Lei sa che la guerra è una cosa che ha tanti spazi, ci sono tantissime pause e allora lui cercava di documentare come andava avanti la storia, come vanno avanti i soldati, gli italiani sono una maia, dormono, giocano con le carte, non soltanto i combattimenti. Kappa voleva far vedere questo per la gente degli Stati Uniti e in un'altra mano voleva a far vedere come vivono gli italiani durante questo periodo impossibile per loro, senza acqua, senza cibo, è una cosa molto terribile. Allora Kappa voleva far vedere la gente comune, questo è importante. Secondo lei in queste fotografie c'è anche spazio per la speranza? Sì, certo, la speranza perché si vede gente comune far sopravvivere, andare avanti.